Ciao a tutti ragazzi, sono Spiccicalen, benvenuti nel mio nuovo video, video molto molto veloce per ringraziare tutti quanti voi in quanto abbiamo raggiunto e superato i 500 iscritti. Io non so cosa dire veramente, tantissimi grazie a tutti quanti voi dal primo all'ultimo per avermi seguito, supportato e anche sopportato per tutto questo tempo, non è neanche un anno che sono, cioè si è da più di un anno che sono iscritta a Youtube ma non è da neanche un anno che faccio video su Youtube e per me raggiungere i 500 iscritti è davvero un bellissimo traguardo che non mi aspettavo assolutamente di raggiungere in neanche un anno di video. Vorrei ringraziarvi dal primo all'ultimo ma non finirei più se iniziassi a nominarvi uno per uno quindi vi mando un grazie generale e spero che continuerete a seguirmi anche con l'anno nuovo con i prossimi video e chissà, magari più avanti potrei fare un giveaway ma stavo pensando di non farlo per il 500 ma aspettare di arrivare ai 1000, se ci arriverò soprattutto. Quindi ancora grazie a tutti quanti voi e noi ci vediamo in un prossimo video. Un bacione a tutti e buona serata a tutti quanti. Grazie, 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 grazie ancora.